Ciao a tutti, sono Vincenzo Ferrieri, ci troviamo qui da Munchegue dei Paesi Tuoi, un locale inaugurato un anno fa insieme a due miei cugini. Nasce dalla nostra volontà di riprendere un po' quelle che erano le vecchie tradizioni di famiglia. Veniamo da una famiglia di macellai, volevamo rivalorizzare questo vecchio mestiere creando appunto un ristorante che dall'esterno sembrasse una macelleria, invece all'interno fosse un ristorante completamente dedicato alla carne. L'idea del locale è nata principalmente pensando al prodotto, quindi non pensando al locale di ristorazione, ma pensando appunto al prodotto che si andava a vendere. Abbiamo pensato di valorizzare un po' quelle che sono le razze tipiche italiane, andando quindi a riprendere le quattro razze principali che sono Pemoltese, Marchigiana, Pianina e infine abbiamo riscoperto appunto un vecchio prodotto partenopeo che è il maialino nero di Casera e realizzare due prodotti che secondo noi sono due cavalli di battaglia del nostro ristorante che sono appunto una salsiccia a metro di maialino nero battuto al coltello e una costata di maialino, che sono prodotti che trattiamo ad oggi solo noi. Un saluto a tutti gli amici di Love Resto e vi aspettiamo qui da Mucca e Bue dei Paesini. Grazie a tutti!